Buonasera a tutti, eccoci qui di nuovo con la rubrica Lotto e motori. Parleremo del Gran Premio che si è disputato a Suzuka per quanto riguarda la Formula 1. Ecco con noi c'è Cesidio. Ciao, ciao. Immagino che hai visto il Gran Premio e già è cominciato con gli ombrelli che diluviava. Esatto, un Gran Premio purtroppo non sta una minuita che parte a cominciare, se non parlava il Signore del Medio oppure direttamente il fatto gravissimo che è successo, secondo me bisogna dare una priorità, ha pensato purtroppo un'autista tuttissima, un ragazzo di 25 anni, più di bianchini, si schianta sotto una gru, riporta un trauma cambio, ovviamente in pericolo di vita, infatti tanto per la sicurezza, scrivono pagine e pagine e pagine di giornali, e poi da uscire che Verona, buono, non so nemmeno come definirla, questa gru si trova lì per togliere una macchina, è un ragazzo che dice da sotto e oggi sta rischiando la vita. Io non so manso neanche da che parte, veramente, ho detto che è un fatto gravissimo, un fatto che fa male, un fatto che ci riesca a molto riflettere, una piastica che non entra, una pioggia, ma la pioggia fa parte delle cose. Cesidio, perdonami, Cesidio ti puoi mettere in un punto dove prende bene il cellulare, perché ti sente attratti dalla tua voce? No, ma io ho il massimo della... Io ho il massimo, io prendo benissimo dove sono. Ok, è anch'io. Sì, proviamo. Ok. No, stavo dicendo, praticamente, questo cultissimo incidente che è successo a Bianchise della Maruzia, non lo ho anche in struttura, non lo ho anche in struttura, questa vuole essere solo che in struttura è una cosa del genere, questa gru questa lì per togliere le sutile va da un pericolo e un pericolo diventa invece questa gru. Purtroppo questo ragazzo, che c'è di pista, sta proprio lì quando dirige il destino, si scrivono fiumi di osso, si consumano fiumi di osso, per quanto riguarda la sicurezza di Formula 1 e poi succedono queste cose. Sinceramente non sappiamo da che parte cominciare un discorso, perché non so nemmeno se un discorso si possa cominciare davanti a certi cose. La realtà dice che questo ragazzo sta rischiando la vita, un ragazzo di 25 anni sta rischiando la vita per un qualcosa che non doveva succedere, un qualcosa che dovrebbe essere evitato e non è stata evitata. qualcuno imputa le colpe al medio, ma il medio lo sappiamo, non sono parte delle cose. Il medio può essere l'acqua, il medio può essere i 70 gradi, ha tutti i calori, il medio fa quello che fa, per cui le cose sono queste. La cosa che dispiace è invece proprio questo fatto, questa roba è proprio così. e subito, quando entro la cosa immediatamente il set di car, immediatamente andiamo ai gialli, immediatamente ralentiamo la cosa. E forse in quel caso sostegnamola, perché se quello è un punto che non ci rompiamo ora, si dice che non può risuccedere come è successo. Quindi, signori, la seguita va controllata, e la mia è in questi particolari, che poi facciamo le monoposte, in una certa maniera sono perfettamente d'accordo. Ma non basta quello. La sicurezza è tutto ciò che rappresenta una gara, dalla A alla Z. Per cui, niente, questa è una cosa che mi piace, mi piace moltissimo. Io mi apro che Bianchini riesca a superare il giovane, per cui ha molto dalla sua parte. Cerchiamo un attimino di essere diversi come lo sono. Voglio veramente esprimere la mia solita dietà, questo ragazzo che poi era nell'orbita, questo non ce lo dimentichiamo. Questo sarebbe stato e potrà essere un futuro pilota di Maranello, un Maranello che mi aggancio, che mi faccio massimo da solo, mi aggancio a questo discorso, dove vede Alonso di tirarsi subito, in guasto elettrico. Il brutto quando si cambia team, l'anno dopo è questo. Ormai Alonso non avrà fatto niente, Alonso dal massimo fino alla gara precedente. Io e qui stiamo perdendo un pilota, è vero che ha 33 anni, è un pilota veramente importante. Oggi come oggi, secondo me, secondo il mio punto di vista, il pilota che si trova c'è da Forma 1. e se la Ferrari è lì dove è, è proprio perché Fernando Oronso è riuscito a tirar fuori, a spremere questo limone, il massimo del succo. Quindi questo non si può fare. A me dispiace moltissimo, tutta l'altra volta, lo ripeto oggi, a me dispiace moltissimo che Fernando va via. Ma io sono stato il primo e le registrazioni delle nostre puntate lo possono testicurare, quando ho detto che Fetter 2015 Ferrari io lo dico da due anni, come avevo detto in precedenza, negli anni passati, il Recona è usato da due anni prima. Io ho i miei canali che mi portano a queste notizie, nessuno ci crede, io anticipo tutto molto tempo prima, quando l'attore è impossibile credere a certe notizie, ma qui ho le notizie che vi esco le vere, poi no, perché ho la certezza, non ce lo dimentiamo. Quindi Fetter in Ferrari, Fetter in Ferrari cosa farà? L'unica cosa di Fetter è la carta di identità, Fetter è 24 anni, avrò sopra il 3-3-3-4 sono ricosti di preciso, quindi ci sono 10 anni di differenza. Fetter non vincerà il prossimo anno con Ferrari, nel 90% non vincerà, però avrà dalla sua la possibilità di creare un ammoloposto, se saranno capaci di farla, lui porterà qualche tecnico della Led Bull in Ferrari, quindi inizierà un programma importante che dovrà portare Fetter a vincere qualche titolo mondiale. Ripeto, questo dovrebbe essere già successo con la Rosso, era nell'aria, ci siamo andati molto, vicini per due anni, che invece non è stato così, che purtroppo non ha dato i giusti meriti a questo periodo, che secondo me, ripeto, mi piace vederlo in un'altra, tutti parlo di un anno sottatico, no, non ci sarà un anno sottatico, Fetter non inizierà un programma importante con la metteria della onda, il Fernando Rosso inizierà, no, il Fernando Rosso inizierà, perché? Perché la onda non viene, non torna in Formula 1 tanto per farsi una passeggiata, la onda torna in Formula 1 per dire che sarà un team vincente come è stato negli anni precedenti. Speriamo, speriamo, che noi saremo più forti di loro nel creare un a fuoroposto che bisogna parlare al futuro, non può ormai questa campionata andare, lo sappiamo ormai nel dominio Mercedes e probabilmente vincere la Emito che stavano gli ultimi settori, ma il Formula 1 non si può mai dire perché l'ultima gara non ce lo dimentichiamo, chi vincerà avrà a disposizione il doppio del puntetto, quindi non saranno più 25 voti, passeranno 50, quindi bisognerà a vedere come arriveranno l'ultima gara che probabilmente sarà la gara più emozionante di questo difetto mondiale. che succederà per cui, ripeto, questo è un mondiale che per noi finalisti, per noi, amanti dello sport della Formula 1 in generale, ormai volge al tramonto, tramonto chiamato Mercedes. è vero, è vero sì, guarda, ci si vede. seconda è il dodicesimo, se non ricordo, 11 o dodicesimo, non mi fa capire la differenza. sono sincera, non neanche l'ho più seguito, cioè appena ho visto quell'incidente di Bianchi e basta, ho abbandonato proprio, ma tanto, quanto sei arrivato, quindicesimo, sedicesimo, tanto la differenza è quella, voglio dire, non è a punto, è la prima volta dopo su quante gare la Ferrari non va a punto, per cui, quindi, di che stiamo a parlare? Lo sfracello totale di questo team, che veramente, guarda, mi dispiace, ma c'è una rabbia sportiva dentro che mi logra, sinceramente, perché io, sinceramente credevo che questo anno poteva essere l'anno della corsa di rosa, l'anno della corsa di rosa, quindi veramente, ero convinto che potesse essere l'anno giusto, perché i due anni precedenti non avevamo andato di tanto bene e si puntava sotto a questo luogo l'anno zero della Formula 1, l'anno zero della Formula 1 lo ha steccato la Mercedes e noi, per me, siamo, la 2007, che aspettiamo un mondiale che non è ancora dell'aria e non la prospettiva futura non c'è stato, in momento non c'è, quindi bisognerà attendere questi nuovi tecnici che verranno dalla Red Bull, ma secondo me ci vorrà il cervello giusto che crea la monoposto che te la studia nei particolari come è stato fatto in Mercedes, non come ha fatto il nostro ingegnere che ha detto ai motoristi di fare il mio motore più piccolo perché l'aerodinamica farà la differenza, potremo questa macchina di certo, infatti, 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 era già deciso dalla prima gara dove vedevi far vedere il primo e il secondo quali secondi aveva così un terzo e lì la differenza, lì la potenza del team che vince e il distacco a fissare che impone agli altri al terzo, quattro e quattro e via distroendo quindi il discorso è stato messo un progetto italiano da parte di Ferrari una Red Bull e netta ripresa e questo mi fa capire che ci sono veramente ingegneri che valgono qualcosa quindi per il momento abbiamo finito l'era Schumacher finito l'era Schumacher siamo riusciti con Raigone perché in Benvenuto non ce lo rimentiamo le problematiche che al fine dopo la famosa spesso spettori in Ferrari e in Ferrari e lì fa capire quello che c'è stato tutto non lo sappiamo non lo potremmo mai sapere però sinceramente io qualcosa nella mia mente ipotizio non è un ipotizzare positivo nei confronti di chi vabbè cambiamo questo discorso sì 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 no ecco volevo aggiungere quanto riguarda l'incidente di Bianchi secondo me non è stato neanche tanto considerato neanche loro hanno capito che cosa era successo hanno interrotto la gara e i pilloti non sapevano neanche che era successo addirittura si ipotizzava che un commissario di pista che si era fatto male a causa dell'incidente di Sutil addirittura si è ripotizzato sì 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 quindi si sono trovati a concludere la gara manco sapere manco che cosa è successo non lo so si fa tanto si fa tanto per la sicurezza poi non queste cose non le teniamo in considerazione d'accordo seguiamo l'incidente perché sono cose che succedono senza senza che non si avrebbe un incidente qualcosa che non si aspetti come non si aspetti qui fammi aprire e chiudere questa valentisi un saluto al grande Andrea De Cesari ieri l'ex pilota di Formula 1 romano che ci ha lasciato purtroppo anche lui in ogni 55 anni in un incidente in un accordo di Roma di Roma questo dispiace io ho conosciuto il Formula 1 erano i miei anni praticamente io ero piccolino è un pilota che deviene regola dei ritiri in assoluto io ho avuto il piacere di ti vedevo anche dai vicino che mi ricordo che lui veniva a Torri in Pietra all'azione che sta sull'Aurelia che era un tennis e un tennis là e tutti mi hanno detto andrei a ricerci io ti ho le formulavo i 1000 ditti da Formula 1 e qui la invece di io parla con i ragazzi e ieri quando ho sentito i ragazzi sono andati molto molto male e approfitto per fare con i ragazzi veramente alla famiglia anche perché era un ragazzo con me non è vicino certo giusto ci si ho fatto bene ricordarlo l'avevo un po' omessa ho questo discorso hai fatto bene ricordarlo hai fatto bene ci si dio è sempre brutto chi muore può morire anche a 100 anni è sempre brutto la morte non è mai una cosa bella in questo mondo non è mai una cosa bella qualunque ci sia in qualunque realvi è vero è vero ho sempre questione se ne ha fatto vuole o non vuole ma è così comunque ci razzisiamo questa valenza così così sono rosa perché poi alla fine non è una mamma e io sono veramente sono rosa e speriamo che almeno il nostro studio più di ce la faccia se non si muore ma con questo è un grande un grande forte ragazzo e direi che ce la farà anche prima o poi sicuramente lo vedremo al quarto di una Fondola 1 anche alla Varanello dicono che è favorevole sì alla alla Ferrari è vero l'ho sentito anch'io era la Fondola 1 ma non ricordo questa storia l'ho seguita molto altrimenti era la Marussia per fare esperienza la Marussia che sinceramente volta mi sarebbe trovata il mio un po' ma è un po' spiega comunque anche la ragazza adesso mi stiamo dicendo facendo un incendio analogo a questo che è questo ragazza ha perso l'occhio la ragazza è bianchissima che sta pensando è un po' calavanti sinceramente poi non vuoi però non è che è successo da molto quando la ragazza mi faceva stava pagando dei testi dopo con questa macchina che si schiava anche lei tutta la via la luce purtroppo ha perso la luce finita lì a troia però sono con tanti questi rischi lascio questa mano in bocca ok no ci si di o non ripensavo sempre all'incidente secondo me c'è di mezzo anche il famoso business formula 1 perché i commissari se tu hai visto il gran premio davano proprio già il ritiro di bianchi quindi loro comunque loro già sapevano dell'incidente anche perché qualcuno pur comunicato insomma che questo si è ritirato cioè e far continuare la gara per altri ben 5 6 giri correggetemi si sbaglio per che cosa per il business con la speranza che magari smetteva da piove e quindi entrava la safety car e tutto ricominciava cioè questo discorso dell'incidente non sono proprio filato a sto cristiano cioè ce ne siamo accorti dopo dopo quando è freduta l'ambulanza ma dai cesidio ma come fanno cioè vedi c'è che tutto il team corre lì in infermeria vedi c'è che viene l'ambulanza non penso che viene l'ambulanza e ti sbucci in ginocchio voglio dire tu che fai davanti a tutto questo non blocchi la gara perché la gara andava a bloccare la prima si 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 questo ti fa capire quando entrano dei mezzi che non sono Formula 1 sono sempre soggetti a trigo vabbè io no perché è successo questa cosa no la pista in pista può succedere in qualunque cosa una qualunque cosa che non sappiamo che cosa e la vita è un reparto a stelle non ci deve fare niente di un'altra sì e il problema cesidio che è continuo scusami poi continuo io scusami no no continuo no no stavo dicendo stiamo facendo la discussione che ho fatto prima quando ti dicevo che quando si fa una gara in pista ci devono stare soltanto le macchine si fa poi si deve essere altro e quando entra l'altro bisogna fermare un quanto meno rallentare rallentare la gara ecco il volo mettendo la settimana no perché è successo diciamo al pilota sbagliato correggimi scusa se uso il termine sbagliato al pilota di seconda categoria perché alla fine bianchi parliamo così chiaro ma chi è? ma certo quello purtroppo sì tutti ricordiamo Senna il primo maggio senza ricordare il 30 di aprile il giorno prima Vessenberg su sempre Imola che morì ma voglio dire Senna era Senna e solo Vessenberg era quello che era certo invece devo ricordare entrambi perché comunque sono persone umane perché comunque sono dei piloni perché comunque stavo vogliando lo stesso messiere e voi non vuoi ma devono essere così però certamente poi i media vanno la 12 c'è la casa della risonanza e automaticamente oggi si risolta l'inna in modo a 95% si risolta l'inna e il 5% si risolta l'inna e il 5% per cui cioè questa è la logica negativa della vita quotidiana che abbiamo la logica negativa purtroppo è questo infatti mi sono un po' arrabbiata ho scritto pure un post negativo su questa gara su Facebook no mi è dispiaciuto per questo ragazzo perché alla fine come si dice a Roma non se ne affila nessuno veramente veramente si è stato abbandonato lì no non ho ragione poi ha trovato pure il tempo da schifo quindi comunque l'elicottero non poteva entrare in pista per fare una cosa più veloce quindi purtroppo è andato ad andare con l'ambulanza e poi addirittura così infatti io non l'ho vista in diretta l'ho vista replica sulla Rai e vedere mi ripeto dopo 5-6 giri che che lui si era ritirato che è venuto l'incidente si sono svegliati ah ok chiudiamo chiudiamo la gara boh per me c'è qualcosa di sotto boh mi puzza sono sincera no 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 ma sono d'accordo in segale non sono esattamente d'accordo davanti a certi cittadini che andiamo a fermare e fare attacchino questo dovrebbe essere un qualcosa che si dovrà riflettere far riflettere poi nei prossimi gran premi dove l'attore speriamo mai ma se fosse la stessa cosa immediatamente si mette un dispositivo che è precofissivo dove è automatico l'entrata in scena della stessa di gara anche se lo vedi così tu rallenti e sai c'è una posizione di pericolo per cui non non vai poi a creare ulteriori pericoli che come è successo in questo di tutti gli eventi potrebbe condizionare perché è l'ottimo potrebbe di succedere anche nelle prossime speriamo mai speriamo che sia un caso unico che rimanga tale però nella vita mai dire mai tutto può cadere tutte le statistiche sono fatte a porta i precedenti sono fatte a porta per cui tutto può questo bisogna trovare soltanto positività nel senso far capire e capire quello che poi in futuro bisognerà fare dalle esperienze negativi che si riesce a tirare fuori qualcosa di positivo perché se tutto va bene tutto va bene quando c'è il negativo ti metti se non fai il modo che questo è negativo è successo una volta e non deve succedere la seconda e poi Cesidio scusami forse la faccio troppo facile io ma 10 giri per spostare una macchina io ti parlo di Sutil 10 giri ci vogliono per portare via una macchina dalla pista che tra l'altro già stava fuori dalla pista se ne avete un attimino quali sono le problematiche in quel momento non lo sappiamo perché non siamo alti fuori non lo possiamo vedere poi certo 10 giri forse erano tanti forse erano in modo ma non non si sono risposta ed è più vero bisogna vedere l'entità e il modo ci sono tante situazioni che determinano questo 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 10 giri è anche vero che con 10 giri si dovrebbe fare molto è certo non lo so non lo so è un gran premio che secondo me non andava proprio iniziato neanche disputato ma neanche far scattare il primo giro certo l'acqua è un gran premio secchio come se fosse Roma scendeva in un modo assurdo perché Dio solo lo sa visibilità zero poi fino a un certo punto a cui c'era a piovere di brutto verso il tramonto quindi a maggior ragione era la pioggia è il buio quindi infatti parecchi piloti si sono lamentati della non visibilità proprio perché le ombre della notte della sera stavamo arrivando e molti piloti non vedevano mai quei caschi che hanno fuori una cosa in altra e loro si fanno ottenere molto meno di quanto lo possiamo vedere con chi ciò con Eccleston tesori miei cioè loro fanno bene a lamentarsi però voglio dire certo se adesso sono a lamentare con chi di dovere con chi sta rovinando la Formula 1 Cesidio gli aggiungerei non ho capito aggiungerei che Eccleston è colui che sta rovinando la Formula 1 Sì perché siamo perfettamente d'accordo ormai bisognerebbe lasciare il banco a chi è più giovane e chi comunque ha delle idee migliori spesso a chi ormai voglio dire bevuto 80 anni e basta mettiti da parte e lascia lascia la torre a qualcun'altro che magari riesce a dare questa spinta maggiore alla Formula 1 perché negli ultimi anni questa Formula 1 ha perso moltissimo a livello economico ha perso moltissimo a livello di presente negli autotomi che si vorrebbe bisognerebbe essere un pochino più elastici perché ce l'ho detto tante volte in trasmissione noi basta che tocchiamo basta che si tocchino a doppio sotto indagio e lascia perde è stato certo per vedere poi l'errore eclatante veramente esagerato che poi ti intervieni ma se sono subitati lasciaci rivivere anche noi che vogliamo una Formula 1 fatta da uomini da virgolette nel senso che fatta da persone dure che combattono fino all'ultimo vittato e all'ultimo scantino della travinista pure per andare nella posizione quindi a volte c'erano se questo eccedere è nella norma ma lasciamo i piedi lasciamoli far tagliare e vedrai quante persone chi acquisterà questa bomba una tu vai a perdere gli uvali in America sono sempre pieni perché lì non c'è limita a nulla e lì vado a succedere gli incidenti sette otto macchine insieme certe caramboli da la lavora propria nel senso devo dare la parola voglio dire no io non dico che ci sono state carambole perché tra qualche pezzo faccio in una certa maniera anche se poi viene tutto un pochino lasciamo un po' lasciamola un po' questa formola come era i vecchi tempi non ti dico al 100% no dimettiamo questo 100% facciamo diventare 50% ma che 50% ci fa difettire si andiamo a cercare il piano dell'uovo il difetto poi ecco poi succedono tragedie come quella di ieri insomma diciamo che negli ultimi anni è stato fatto moltissimo per la sicurezza e i discorsi di vita voglio dire vediamo dei incidenti veramente spettacolari e paurosi e poi magari il tiro è scendente perché comunque la scocca comunque la cellula dell'abitacolo è stata fatta in una certa maniera sono delle regole rigorosissime che sono rispettate da chiaramente dai team questa è una cosa importante anche molti piloti che una volta magari uscino qualche gamba rotta oggi ma scopriggi neanche un grafico che fa bellissima cosa è normale è perfetto è così che mi piace quando invece innanzitutto ci deve essere la cosa del pilota la produzione è una sicurezza totale non può totale quindi è del massimo vale per il pilota e il pilota avendo questo il pilota in questo modo di stare in macchina riesce anche a spiegare meglio in pista e ti regala veramente delle belle battaglie al limite battaglie al limite proprio che dire speriamo bene che questo ragazzo si riprenda ma certo forte in bocca al lupo da parte da tutti noi c'è sito tutti chiunque anche perché è un ragazzo di 25 anni e fa sta morte così no no non ci sto non ci sto no non ci stiamo non ci stiamo non ci stiamo proprio non pensiamo un negativo perché sono molto più dilioso e la cosa positiva è che questo la cosa positiva che in ospedale già poi è successo è forse il numero uno al mondo da quello che mi dicono e con forza e coraggio mi dai in mani veramente ottime ottime speriamo cesidio cesidio concludiamo con qualche numero dell'otto concludiamo con un bellissimo ambo da fare sulla ruota di torino e tutte vi consiglio abbiamo di riuscito 75 81 a tutte al secondo tentativo e oggi facciamo questo tentativo con 81 90 lo giochiamo sulla ruota di torino e su tutte ok e ricordiamo anche il sito dove andare a vedere si appunto pronosticinicenti.net in via di di guarigione ma ha avuto questo termine un po' particolare perché guarigione perché comunque stiamo risistemando ci sta portando via un pochino per tempo che era previsto che era ovvia da pochissimo sarà un sito veramente all'avanguardia ok ci si d'accordo d'accordo do appuntamento a te e a tutti i nostri ascoltatori al 13 ottobre così commenteremo il gran premio di russia da bene ok un forte abbraccio a te e a tutti i nostri ascoltatori un abbraccio grande da alessandra ciao ciao